Ciao amici di Bow Boys, sono Elisa Guidarelli e vi parlo di quelli che sono gli accessori per il giorno del matrimonio, per il vostro cane. La cosa che mi preme in assoluto dire è quello che, essendo matrimoni specialmente nei mesi caldi, di fare attenzione a quello che gli facciamo indossare. Perché? Perché ovviamente loro si sentono ridicoli e stanno scomodi, quindi meglio un semplice papillon come quello che indossa il mio Sirio, oppure un collare di fiori come quello della piccola grande Sparta. Gli accessori si possono trovare sul web tramite i vari siti italiani ed esteri che forniscono un'ampia scelta, oppure come per esempio facciamo noi con i nostri clienti, farli fare su misura. Quando parliamo di fiori, ovviamente non utilizzate i fiori veri, perché possono dar fastidio all'olfatto del cane. Per qualsiasi altro consiglio o informazione mi potete contattare tramite la rubrica di Bow Boys. Vi salutiamo! Ciao!